Oggi in assemblea il nostro pressing sul gioco d'azzardo ha funzionato. Un altro piccolo tassello di contrasto al gioco d'azzardo al gioco d'azzardo patologico è stato aggiunto. Infatti uno dei nostri emendamenti che voleva vietare la Ticker Redemption, secondo cui i giochi per i bimbi che li avviano più o meno velatamente al gioco d'azzardo, è stato approvato. Praticamente noi avevamo presentato un emendamento che vieta l'utilizzo delle macchinette di Ticker Redemption per i bambini. In realtà il nostro emendamento è stato bocciato e ne è stato approvato uno dei PD essenzialmente identico, approvato all'ultimo minuto. A noi le bandiereine non interessano, siamo molto contenti che questo lavoro intergruppo funzioni e un pezzo alla volta aggiungiamo il contrasto al gioco d'azzardo e al gioco d'azzardo patologico. Grazie